Dopo l'inaugurazione dell'Auditorium Diviale della Resistenza, Scampia, intitolato a Fabrizio di Andrè, con Dorighezzi che ha festeggiato a Napoli anche il suo settantesimo compleanno trascorso interamente nel quartiere, ieri sera si è tenuto il primo concerto, dedicato a Fabrizio e ad ingresso gratuito. Sul palco si sono alternati molti artisti della scena musicale napoletana, oltre al coro delle scuole di Scampia. La scelta della poesia di Faber, unita anche in rima con Scampia, rispecchia l'ineguagliabile canto che De Andrè ha sempre dedicato alle periferie del mondo ed il reciproco affetto tra lui e la città di Napoli, in cui ora c'è un luogo nuovo e significativo di incontro, condivisione e cultura, che promette di unirsi alle tante iniziative che le associazioni del territorio stanno moltiplicando per cambiare il volto del quartiere.